In arrivo 40 milioni di euro dei fondi FAS per la realizzazione dell'aeroporto in provincia di Agrigento. Questo, ha detto Eugenio Dorsi, è il momento più bello da quando sono stato eletto presidente della provincia. Corre l'obbligo ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a questo risultato storico che arriva grazie ad un gioco di squadra nel quale nessuno si è risparmiato, dal ministro Alfano, che ha preso un preciso impegno per la sua terra, al governatore Lombardo e ai deputati regionale e nazionale Grigentini, ciascuno per la propria parte. Ma il ringraziamento va anche all'ingegnere Amel, che ha coordinato lo staff che ha elaborato un progetto praticamente a costo zero, con grande professionalità e competenza e in tempi strettissimi. Dorsi ha tracciato un breve escursus della vicenda aeroporto negli ultimi mesi, evidenziando come la vera spinta sia arrivata solo dal mese di giugno, ovvero dopo la chiusura dell'AVT. Parliamoci chiaro, ha detto il presidente Dorsi, in pochi credevano in questa impresa, ovvero fare in sei mesi quel che non era riuscito in quarant'anni alla classe politica grigentina. Da giugno non abbiamo risparmiato energie e soprattutto siamo riusciti, grazie alla spinta del ministro Alfano, a coinvolgere l'Enac, che aveva negato il parere positivo per il progetto di Racalmuto. Il presidente dell'Enac, Vito Riggio, ha inviato il suo direttore generale, l'ingegnere Alessandro Cardi, che dopo un sopralluogo ha dato il suo benestare per Licata. Poi, grazie ad una modifica del regolamento aeronautico, siamo riusciti a ottenere l'autorizzazione per un aeroporto regionale e non un aviopista che onestamente non sarebbe servita a molto. Così siamo riusciti a realizzare un progetto che prevede una pista di 1500 metri, adatta agli ATR 72, ovvero aerei di 70-80 posti. Sono estremamente soddisfatto, ha concluso Dorsi, perché siamo passati davvero ai fatti concreti. Contiamo di aprire i cantieri entro luglio del 2011. I tempi tecnici sono questi, ma possiamo dire che stavolta abbiamo tutte le carte regola per rilanciare davvero il nostro territorio, l'unica parte della Sicilia che attualmente è un vero e proprio deserto infrastrutturale. Dorsi ha confermato l'interessamento di una compagnia di volo svizzera ed una maltese per lo scalo di Licata.